Siamo con Sara in Balzano, ciao Sara, allora Sara piccolina, 15 anni, però dicono di te un gran bene, ti hanno visto giocare portiere dal sicuro a venire, ora ti ritrovi a giocare nel Segato Juventus, qual è il tuo pensiero? Innanzitutto vorrei ringraziare la società per l'opportunità e spero di ricambiare con tutto il mio impegno sul campo. Come ti ritrovi a giocare in questa squadra? Qual è stato l'input che ti ha fatto dire sì a questo progetto? Innanzitutto mi ha dato una buona impressione sin da subito per il loro programma, mi ha convinto sin da subito a partecipare a questa squadra. Come è nata in te l'idea di giocare a calcio? Quando ero piccola passavo la maggior parte del tempo con dei miei cugini e andavamo ogni domenica al campo vicino a casa, insomma giocandomi è nata la passione in me. Proprio come ruolo portiere, ti piace? Di solito tutti vogliono giocare attaccanti? Diciamo che mi hanno messo in porta perché volevano giocare gli altri avanti però a me piaceva questo ruolo quindi con piacere lo ho fatto. Complimenti allora Sara, in bocca al lupo. Grazie.